Siamo qui a manifestare per chiedere al governo un intervento energico in merito alla produzione del Prosecco, a questa denominazione che rimanga assolutamente tuturra italiana, vista la presentazione oggi da parte della Croazia della nomenclatura, appunto della dicitura Prosecco con la cappa finale. Quindi noi rivendichiamo chiaramente questa originalità tutta italiana, così come è successo appunto per il Nutriscorro. Quindi la manifestazione ha questa finalità e chiaramente chi poteva farla sono una strategia d'Italia.